Le devo far vedere una cosa Le devo fare vedere una cosa ragazzi Questa ce la dedica Fanfieric Sì Fanfieric te la faccio vedere Te la faccio vedere Me l'ha passata Andre E Eh niente sono Io furri a quanto pare Tantissimi video Bene Perché proprio adesso? Perché me l'ha passata adesso Me l'ha passata adesso Andre E niente sono io Ho i capelli più lunghi Furrik E niente sono io furri Bene Mi è costato 12 euro il piango Capito i regali costano grazie Pensa te Potevi fare tre mesi di sub Invece mi hai regalato un disegno di me Versione animale Sono scelte ci sta Mandalo a Poldo che appora dei furri Glielo manderò va bene Meglio questo Hai ragione Mauri Tre mesi di sub sono tre mesi Invece questo qua mi rimarrà per tutta la vita del resto Manca dei muscoli È vero Ah quanti sub le hai imposte in un'immagine di Instagram? Cinquemila Non ne voglio sapere Cinquemila Il trauma Sì sì il trauma Il trauma Ciquilla in una live Ah sono stanco ragazzi Sono stanco